So che ha avuto un colloquio con la moglie questa mattina, si è svegliato dopo l'operazione, una nottata credo passata bene, alle 11 ci sarà un nuovo bollettino della direzione sanitaria e adesso sta incontrando le figlie. No, dicevo che forse l'unica preoccupazione in questo momento di Bersani era quello di registrare ieri prima di entrare in sala operatoria Juventus Roma e assicurarsi che sia stata registrata stamattina quando si è risvegliato, insomma, quindi adesso a parte le battute ma insomma credo che stia meglio, insomma, questa mattina, sì. Adesso c'è la moglie con le figlie? Sì, sono su, la moglie con le figlie, alcuni amici e stanno anche loro aspettando il bollettino delle amici. Le ha riferito dei messaggi che sono stati mandati? Sì, sì, le figlie hanno riferito, insomma, un po' l'affetto che sta circondando in questo momento Bersani, insomma, quindi credo che sarà contento. Quindi se la pone se ancora non ci può dire non la fa del bollettino, però di certo sta meglio. Sta meglio, sì, insomma, questo ci hanno detto i medici, sì. Lei l'ha visto? No, 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 solo la moglie e le figlie.